Meno 4 al Paglio dei Rioni di Castiglion Fiorentino edizione 2019. La rievocazione storica dedicata alla Madonna del Rivaio delle Grazie che si tiene ogni anno la terza domenica di giugno sta riscuotendo un notevole successo sia tra gli appassionati di questo genere di eventi che tra gli amanti e i cultori di manifestazioni storiche. Particolarmente curato il corteggio storico con gli oltre 500 figuranti che ripercorrono alcuni secoli di storia dal 200 al 400 che prenderà il via domenica dalle 15 e 30. Il Paglio dei Rioni si presenta in una veste diversa e rinnovata a partire dall'istituzione dell'ente Paglio città di Castiglion Fiorentino che ha ottenuto due mesi fa anche il riconoscimento giuridico. Siamo contenti, possiamo anche dire che è una crescita rapportata a quella che poi è stato l'andamento della città sia in termini turistici sia in termini di offerta culturale ma anche in termini di offerta e di intrattenimento. Il Paglio è sicuramente alla terza domenica di giugno in onore della Madonna delle Grazie del Rivalio l'appuntamento più atteso. Sicuramente coinvolge in larga parte un pubblico giovane, le nuove generazioni sono particolarmente tutte attratte dal Paglio dei Rioni ma di fatto ha dato degli indicatori estremamente positivi sia per la partecipazione sia per l'organizzazione. Infatti è di qualche anno fa la nascita dell'ente Paglio, il riconoscimento giuridico della Regione Toscana dell'ente Paglio avvenuto nel mese di maggio scorso e una serie importante di volontari che si danno un grande affare per cercare di curare ogni aspetto di questa manifestazione. Cosa aspettarci da questa inizione? Intanto il tempo buono perché che non piove già è un qualcosa di positivo. Chi organizza simili eventi sa di che cosa parlo perché devi mettere in piedi una macchina che dal punto di vista anche della sicurezza coinvolge tanti volontari e tanto personale specializzato. Poi oltre al tempo buono ci auguriamo sicuramente che sia i protagonisti Cavalli, Fantini, Pubblico non abbiano alcun problema perché anche questo visto dalla parte del sindaco è sempre una preoccupazione in più. Ci sia un bello spettacolo e che magari anche la fase che ci avvicina al Paglio con le scene propiziatorie, la prova generale, il pagliotto che è al sabato, la sgambata del venerdì, siano tutti momenti di festa per la nostra città. Un biglietto da visita che deve essere sicuramente annoverato tra i momenti più attraenti del nostro paese come inizio di un'estate che io mi auguro come gli anni passati sia scoppiettante.